Raff tra i cantanti ospiti del Team Summer It's Rimini, e, un'occasione per abbracciare il mio pubblico. Il mio nuovo album, Entusiasmo Incontenibile per Raff, che canta in finto a Team Summer It's Rimini. Applausi a scena aperta del pubblico, anche quello più giovane, che sembra conoscere a memoria il testo della canzone. Raff si gode l'abbraccio dei fan e poi si concede ad Andrea De Logu, che gli dice, Infinito è una canzone pazzesca, l'ascoltavo ogni volta che mi lasciavo. A me queste storie mi hanno affascinato molto, anche se io vivo una vita sentimentale perfetta e appagante, spiega. Interviene Stefano De Martino, che gli chiede di cantare Cherry, la sua nuova canzone. Detto fatto, Raff non se lo fa ripetere, Raff è quella, voglia di ballare tutta la notte. Questa sera, giovedì 14 luglio, ritroviamo Raff tra i protagonisti di Team Summer It's Rimini. Il cantante non vede l'ora di abbracciare il pubblico ed esibirsi sul palco. Dopo l'uscita a sorpresa di Cherry, è pronto a scatenarsi e a godersi una serata all'insegna della musica e della leggerezza. Il desiderio di lavorare a nuovi progetti, però, batte forte e infatti in una intervista rilasciata al sito di TV Sorrisi e Canzone ha annunciato che il nuovo album arriverà in autunno. Raff e Tozzi, Sanremo e Talent. Gare canzoni non han senso, utili solo allo Cher. Cherry fa parte di un nuovo album a cui sto lavorando e che uscirà dopo settembre, ha spiegato. Infatti all'inizio non pensavo di diffonderla ora. Ma poi mi sono reso conto che è perfetta per l'estate e per questi tempi di problemi angosciosi e apparentemente irrisolvibili. La canzone parla della voglia di ballare tutta la notte per liberarsi dalle ansie e ritrovare un po' di spensieratezza. È un inno all'estate, Raff al Team Summer Eats per riabbracciare il suo pubblico, nel suo nuovo pezzo, Raff, parla anche di, fake news, un tema a cui il cantante è molto legato. Si percepisce un vero e proprio attacco al clickbait, sono colpito dai rischi delle, notizie, manipolate e fuori controllo che girano sul web, magari solo per raccogliere click. A un certo punto era più riuscita la, notizia, della mia morte, ha spiegato Raff nell'intervista. Gabriella Labate, Bianca e Samuele, moglie e figli di Raff, è stato un miracolo, nella stessa emerge il desiderio del cantante di esibirsi dal vivo e di riabbracciare il suo pubblico, che ovviamente attende un tour. Certamente mi esibirò, anche se non in un vero e proprio tour, che farò poi all'uscita dell'album. Ma ci saranno altre occasioni per riabbracciare il mio pubblico, ha precisato. Il team Sammeritz è una di cui